C'è pizza e pizza, ma quella del ristorante da Gennaro ha il profumo delle cose antiche, la genuinità che le derivano dalla tradizione. La pizzeria da Gennaro, infatti, è stata la prima a Golfo Aranci. Oggi richiama vecchi e nuovi clienti per offrire, arricchiti di novità, i gusti di un tempo. Due buone ragioni per fermarsi a Golfo Aranci, in Via Libertà 31, nel ristorante Pizzeria da Gennaro. Due buone ragioni per andarsene soddisfatti, la cucina marinara e la pizza di una volta. Per prenotazioni telefonare al 46 810.